Una buona serata e ben ritrovati a punto di incontro. Buongiorno, oggi incontriamo volentieri l'assessore regionale urbanistica Marco Scaiola, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Ci siamo visti non tanto tempo fa, soprattutto lei ha visto i rappresentanti del territorio per parlare del piano territoriale regionale. Sono quelle parole, quelle sigle, PTR per capirci, che a volte sfuggono, ma alla fine questo piano territoriale regionale, che cos'è, che cosa significa, in che modo vuole ridisegnare la Liguria e che strumento è? Beh, innanzitutto, è vero, sono termini che a volte uno li sente, se non è un tecnico, magari non comprende. Però noi dobbiamo pensare, quando pensiamo all'urbanistica, che tutto ciò che ci circonda parte da prima, e parte da un progetto, da un percorso di pianificazione, di organizzazione, di quello che sarà una cosa, piuttosto che quello che sarà l'altra. Quindi l'urbanistica, anche se alle volte non è un settore che in maniera imminente fa vedere quello che è direttamente il proprio lavoro, è di straordinaria rilevanza, perché tutto il mondo che ci ruota intorno, anche quello economico, sociale, ruota intorno a quello che noi facciamo del nostro territorio, delle nostre città, del nostro entroterra e della nostra costa. Il PTR è il piano, è la programmazione, quella che sarà la Liguria dei prossimi vent'anni. Noi l'abbiamo voluto chiamare, proprio perché il termine PTR è un termine giusto, corretto, tecnico, un po' pesante, l'abbiamo voluto chiamare per far comprendere, non solo i tecnici, ma anche tutti i cittadini, che si tratta di idee di Liguria. Noi l'abbiamo chiamato, è un percorso di idee, come vogliamo che sia la Liguria tra vent'anni, nella costa, nell'entroterra e nelle città. Il PTR è fondamentale, rientra nella programmazione, nelle competenze regionali, che devono fare appunto la programmazione regionale e questo aiuta i comuni ad esempio a pianificare i propri PUC, altro termine, Piani Urbanistici Comunali, che sono di stretta competenza. Il vecchio piano regolatore. Il vecchio piano regolatore, di stretta competenza del comune con la regione che verifica alcuni aspetti. E proprio sui vecchi piani regolatori noi abbiamo l'ambizione, proprio perché i PRG sono vecchi, obsoleti e superati, di fare in modo che i comuni, tutti, abbiano al più presto il piano urbanistico comunale. Perché è un piano più moderno, più fattivo e permette interventi attuali, interventi che mirano a superare esigenze problematiche, per esempio di viabilità o di altro, che hanno i comuni e quindi uno strumento snello, più rapido, più veloce, in mano dei comuni. Mentre invece i vecchi PRG sono oramai obsoleti. Detto questo, che cosa abbiamo fatto noi? È un po' il nostro modus operandi, che devo dire, e mi fa molto piacere perché poi mi viene anche riconosciuto dal territorio, quando ci siamo insediati nel 2015 abbiamo dato un po' un vento di cambiamento, ma proprio anche del modo in cui operare sul territorio. In genere la politica che cosa ha sempre fatto e spesso fa ancora? La politica sta nel palazzo, decide, perché gli amministratori giustamente devono anche decidere, poi va in giunta, va in consiglio comunale o in consiglio regionale in base alle competenze, e poi conferenza stampa e ai cittadini arriva, come dire, il pacchetto bello finito, dove ovviamente si possono fare modifiche, emendamenti, tutto è sempre modificabile, ci mancherebbe, però oramai di fatto è costruito ed è preparato. Noi facciamo, e l'abbiamo sempre fatto col piano casa, con la legge sulla riqualificazione urbana, sul piano cave, su tutto, il contrario. Cioè noi incontriamo prima la gente, i tecnici, gli amministratori, ascoltiamo quelle che sono le esigenze, i suggerimenti, le proposte, poi prepariamo la delibera, andiamo in giunta, andiamo in consiglio comunale, in consiglio regionale, ma lo facciamo dopo questi passaggi. Così abbiamo fatto per idee di Liguria, siamo stati a Genova, alla Spezia, a Savona, ovviamente qui ad Imperia, e abbiamo presentato il nostro progetto, abbiamo lasciato tempo, senza una scadenza precisa, a chiunque, ma anche un cittadino, può mandarci una mail, dirci una cosa, darci un suggerimento e avrà risposta, sia essa positiva o negativa. Noi per esempio, come ho detto prima, il PTR lo dividiamo in costa, entroterra e città. Costa, beh, costa è una pianificazione che va verso la difesa, la tutela delle coste, ormai ci siamo abituati da alcuni anni che le marreggiate non sono più un qualcosa di un atantum, come accadeva prima, ma purtroppo, adesso non entro nel merito se il cambiamento climatico o che cosa, o forse anche perché non si è troppo in passato investito sulla tutela della costa, comunque sta di fatto che noi ogni anno, tra ottobre e novembre, dobbiamo sempre rincorrere le emergenze di tanti comuni che hanno la costa divorata. Abbiamo visto ad Alassio il caso più eclatante, ma anche qui in provincia d'Imperia come in altre località. E quindi mettere nella pianificazione la possibilità di prevedere che si intervenga sulla tutela della costa, quindi i comuni non dovranno, nel momento in cui vorranno intervenire, dover affrontare anche degli iter burocratici, lunghi, faraginosi, contorti, che spesso e volentieri fanno perdere la pazienza e il tempo. Ci sono delle linee guida. Avranno delle linee guida, quindi in poche settimane, in pochi mesi si potrà intervenire. Certo, ci sarà sempre la questione delle risorse, ma questo è un altro aspetto. Quindi tutela della costa, salvaguardia della portualità turistica che si è sviluppata esistente, eventualmente nuovi porti turistici laddove ce ne sia l'esigenza. Al momento pare che la nostra presenza di porti turistici in Liguria, con i numeri che ci sono, sia quella che va bene per le condizioni che ci sono adesso, ma visto che noi parliamo di Liguria da qui a vent'anni, magari qualcosa potrebbe modificare. Parliamo di città. Beh, le città hanno un grossissimo problema e lo sentiamo dire, penso da quando io levo, mi calcio in cilicorti, visto che siamo coetanei, che c'è una strada sola, che c'è sempre coda, che c'è il traffico e che è un problema. Cambiano le amministrazioni e purtroppo tutti i sindaci hanno sempre da rincorrere il medesimo problema e spesso non è neanche fattivamente risolvibile. Noi con questo strumento mettiamo nelle condizioni della pianificazione urbanistica nuove opportunità viabilistiche, che possono essere alternative alla classica Aurelia. Poi c'è il discorso infrastrutture, è ovvio, ma ripeto, è fuori dal PTR, ma che è importante. Ad esempio noi stiamo lottando per avere l'Aurelia Bis, i fondi, ci sono i progetti, devono riprendere i lavori e l'Aurelia Bis è fondamentale su questo territorio. Mi ricordo che io ero consigliere comunale quando approvamo il progetto che interessava la città d'Imperia, poi tutto si è fermato, assolutamente deve riprendere e andare avanti grazie all'intervento fondamentale dello Stato. Però diamo ai sindaci la possibilità di immaginare la propria città con nuove modalità viabilistiche. Poi saranno loro a farlo. Noi non è che decidiamo cosa avviene a Imperia, a Genova, a Savona o a Spezia. Noi mettiamo però i sindaci, e ho preso le città capoluogo, ma vale per tutti, anche per i piccoli comuni, gli diamo, caro sindaco, ti do lo strumento per risolvere i tuoi problemi. Sulla pianificazione, sulla semplificazione, ora sta a te decidere insieme al tuo comune qual è la strada da percorrere nel più breve tempo possibile. Arriva l'entroterra, l'entroterra l'ho lasciato per ultimo perché lo ritengo da una parte quasi più importante e strategico. L'entroterra è stato dimenticato. Era nei comizi politici di tutte le appartenenze partitiche dell'arco costituzionale che è bello l'entroterra, valorizzare l'entroterra, poi cosa succedeva? Zero, l'entroterra abbandonata. E così cosa abbiamo? Che nell'entroterra vanno via i giovani, soprattutto. Gli anziani cercano di sopravvivere, chiudono i negozi, viene abbandonato il territorio agricolo, quindi abbiamo un aumento di bosco, che non è il bosco bello, una volta ne ho parlato qua, il bosco bello di Aidi. È il bosco, quello pericoloso, che poi diventa un problema quando piove, quando nevica, quando ci sono... Quello che i nostri vecchi chiamano burdiga, per essere proprio chiari. Esattamente, che è un problema. Ed è un problema enorme. Quindi noi pensiamo di prendere in mano l'entroterra, di salvare l'entroterra, di proporre all'entroterra delle scelte urbanistiche di pianificazione importanti, quali sono? Innanzitutto sono recuperare gli immobili esistenti, poter intervenire sulle immobili esistenti, togliere dei vincoli. Nell'entroterra, se lei ha un caruggetto, che è in buone condizioni ma lo vuole rimettere a posto, se lei lo vuole rimettere a posto, partono obblighi di legge, che deve rifare la pietra come era prima, che deve rifare il materiale del tetto, il materiale del tetto deve essere quello che c'era prima, tutto bene, ma adesso lei magari va su, vai da qualsiasi parte e non lo trova quel materiale lì, perché non esiste più. E quindi cosa succede? Che lei non fa niente e quella caseggiato, quel rustico rimane abbandonato. Noi permettiamo di togliere questo vincolo, di intervenire nella tutela paesaggistica, nella massima tutela ambientale, di fare in un'ottica di riqualificazione, utilizzando materiale moderno, perché è quello che c'è adesso, nell'ottica dell'impostazione di quello che era una volta. Quindi non è che verrà una roba moderna, verrà una cosa in tema con quel paese, con quella tradizione, con quella storia. Che sia gradevole, che non vada a rovinare il borgo. Esatto, ma mi permetterà di intervenire con costi minori e quindi io sarò motivato a farlo, perché in quel carugetto ci potrà venire la mia casa, la casa dei miei figli, ci potrà venire una piccola azienda, un piccolo ristorante, un piccolo bed and breakfast che sappiamo quanti turisti stranieri vogliono dormire nelle nostre località dell'entroterra. E questo è uno strumento importante. Infatti mi fa piacere che la maggiore attenzione l'abbiamo proprio trovata tra i sindaci dell'entroterra. Perché sono loro che hanno capito che siamo arrivati a un punto di svolta per salvare l'entroterra e per rilanciarla. Anche perché in certi casi nell'entroterra, mi perdoni, come parliamo sulla costa, ma un po' ovunque, si è costruito fin troppo e magari anche male, soprattutto negli anni 60, 70, ma anche più di recente. Ma anche 80, ma anche 90. Eh, appunto, anche di recente. Ma oggi non c'è più da costruire, ma semmai da salvaguardare. Il territorio, perché abbiamo visto, come è conciato, e poi le risposte ai miei che ci dà di fronte alle piogge, e magari appunto anche edifici, chiamiamoli storici, le vecchie case dei nonni, che sarebbe bello poter recuperare in modo gradevole, però. Quanti giovani storici hanno la possibilità di avere magari ereditato, magari hanno un lascito di uno di questi alloggi, che magari però sono in condizioni fattiscenti, è un tesoretto che la loro famiglia gli ha lasciato, il nonno, il bisognere, quindi hanno, lo vivono magari parzialmente, perché non hanno magari fondi per metterlo a posto completamente, ma se noi li mettiamo nell'ottica che quell'alloggio può diventare, come magari volevano i loro nonni quando gliel'hanno lasciato, una possibilità anche di economia, anche di ricchezza per quella famiglia, perché me lo posso mettere a posto o me lo posso vendere? Me lo posso mettere a posto e facendomi un mutuo, facendomi, andando anche a trovare quei fondi che attraverso Filz stiamo dando per rilanciare la piccola impresa, posso trovarmi un qualcosa che dia lavoro a me e i miei figli, quindi è un'opportunità non solo di riqualificazione urbanistica, ma io ci metterei anche di aiuto economico, ma direi anche di aiuto sociale, perché viviamo comunque un'epoca dove la gente scappa dalla Liguria, un po' meno, ma continua ad andare via, troppa, e soprattutto non trova lavoro qui in Liguria, e quindi perché non usufruire delle opportunità che abbiamo? Ecco, abbiamo parlato di entroterra, di territorio, Scagliola, un accenno, bisogna farlo al di là dei piani, appunto del disegno della Liguria, che sarà anche della Liguria, che dobbiamo ragionare anche su quello, sui problemi, penso a Rocchetta, Nervina, isolata, adesso forse si farà un ponte, si risolverà, speriamo prima possibile, speriamo addirittura prima di Natale, non lo so, mi sembra un po' difficile, però il prima possibile speriamo. Poi c'è Cenova, c'è Calderara, Calderara per fortuna è solo una casa, e andiamoglielo a dire ai padroni di quella casa, voglio dire che è una fortuna, parliamone, Cenova sicuramente è ancora più grave, abbiamo Monesi in itinere, perché non la voglio dimenticare, anche se oggi può sembrare, di fronte al disastro di Cenova, dove ci sono persone che hanno la prima casa, che non c'è più, che non possono entrarci, ci mancherebbe, però mettiamoci tutto insieme, è un territorio che ha bisogno di attenzioni, tutte quelle che non ha avuto in passato. Eh sì, perché purtroppo si è parlato tanto e agito poco, noi cerchiamo di fare il contrario, di parlare il giusto, perché è giusto anche parlare, di comunicare, ma soprattutto di agire, e quindi, e ora le rispondo, ma mi ricollego anche a quello che è stato detto prima, purtroppo in Liguria si è costruito tanto e male, troppo, e abbiamo rovinato in alcuni angoli del nostro Liguria il paesaggio, e in altri abbiamo reso e creato le condizioni, per le quali fiumi, torrenti, quando vanno in piena, sono un danno per la comunità. Noi adesso, e c'è una grande politica nazionale, sul consumo di suolo zero, che non vuol dire, in maniera culturalmente, magari un po' estremista, non si costruisce più niente, si costruisce, ma bere, e quindi il consumo di suolo zero, come si suol dire, noi con la nostra legge sulla rigenerazione urbana, insieme ad altre due regioni, siamo all'avanguardia a livello nazionale, con il Ministero delle Infrastrutture, che ha detto che prenderà la nostra legge come modello, per una normativa nazionale, quindi penso che ci sia anche da essere un po' orgogliosi, la Liguria era tra le più altre regioni d'Italia, che ancora recentemente, aveva record negativi, come il consumo di suolo, i dati del Ministero 2017-2018, portano la Regione Liguria, col consumo di suolo pari allo 0,08%, contro la media nazionale dello 0,21%, quindi siamo tra le regioni, che tutelano e rispettano maggiormente il territorio, ma non vuol dire, che abbiamo bloccato qualcosa, anzi abbiamo sviluppato l'edilizia, attraverso il piano casa, perché da una parte crolla il consumo di suolo, e dall'altra parte il piano casa permette un'attività economica annuale di poco più di 70 milioni di euro di fondi privati investiti sul territorio Ligure, che vuol dire lavoro, sviluppo e messo in sicurezza e riqualificazione di ciò che esiste e di ciò che è sul territorio. Vengo alla sua domanda, Rocchetta è successo qualcosa di incredibile, come è successo a Cenova, come è successo anche a Pieve, come purtroppo è successo nel 2016 a Monesi, ed è successo qualcosa di straordinario, la quantità di acqua che è scesa, poi meglio di me un geologo potrebbe spiegare anche il movimento che c'è stato a Monesi nel 2016, come a Cenova in questi ultimi anni e nell'ultima occasione. Bisogna stare vicini ai sindaci, io devo ringraziare i sindaci di questi comuni, perché sono sindaci che non percepiscono un euro, che sono in prima linea, che la notte la passano nei cantieri per salvaguardare l'incolumità dei propri cittadini. Che rischiano anche di tasca, che mi permettono di aggiungere, perché firmano somme e urgenze, quindi sono stati bravissimi e bisogna che vengano riconosciuti, perché spesso si dimenticano i piccoli comuni, che invece sono grazie ai piccoli comuni che si regge anche l'economia di una comunità. Piccola parentesi. A Rocchetta Nervina abbiamo visto la Frana, ci siamo mossi con la protezione civile regionale, quindi presto arriverà questo ponte. È già stato fatto un sopraluogo dalla ditta, una ditta molto seria, una ditta specializzata, che ha trovato il sindaco di Rocchetta insieme al sindaco di Dolciacqua, perché la Frana è di Rocchetta, ma di fatto è nel territorio di Dolciacqua, ma il problema lo crea Rocchetta, perché sono gli abitanti di Rocchetta che sono stati isolati. Quindi si sta procedendo, ci saranno ulteriori passaggi tecnici, ma quindi si sta procedendo. Un po' più complicata la questione di Cenova, perché lì il movimento franoso è in continuo movimento, non si è fermato, e quindi si sta cercando di tamponare l'esistente e si vedrà. Speriamo che arrivino le risorse che abbiamo richiesto, per il momento sono state date molte meno risorse di quelle che avevamo richiesto, ma noi non chiediamo, noi non facciamo l'emosina col cappello, noi chiediamo centesimo per centesimo quello di cui la Liguria ha bisogno. Io faccio anche un altro ragionamento, ogni qualvolta noi ci presentiamo ai tavoli ministeriali, ma questo è sempre successo così, per chiedere dei fondi per i nostri territori, ci viene detto che non ci sono i soldi, poi ogni volta che avvengono le disgrazie i soldi arrivano. Allora, delle due una, allora o ci prendete in giro quando vi chiediamo i soldi per fare prevenzione, oppure non ce li volete dare. Allora io voglio chiedere sempre alla buona fede di tutti, io sono uno, insomma, chi crede nella buona fede di tutti forse ogni tanto dovrei cambiare idea, ma io direi, ma perché non inizia, ma deve iniziare dallo Stato, dal governo, di qualsiasi colore, adesso sì, la mia non è un riferimento a questo governo, ma vale per i governi degli ultimi vent'anni, perché così si è sempre fatto, ma invece di rincorrere l'emergenza, che poi sembra quasi che ti vengano a fare la carità, perché ti danno qualche milione di euro per mettere a posto un paesino e tu devi anche inginocchiarti e dire grazie, dateci soldi per fare prevenzione, metteteci nella condizione di poter intervenire prima, perché noi sappiamo dove si potrebbe intervenire, da Sarzana a Ventimiglia, sappiamo quali sono le zone a rischio, quando costerebbe la metà, mi permette di aggiungere, costerebbe meno della metà, meno della metà, guardi, io mi occupo di demanio marittimo, con i canoni demaniali, dei balneari, noi diamo allo Stato 10 milioni di euro all'anno, che vanno a finire nel bilancio del calderone del bilancio dello Stato, io, sa cosa ho chiesto, in più occasioni, quando ogni tanto passa un ministro da Genova, proviamo a chiederlo, ci dicono sì sì, ma poi non succede mai nulla, abbiamo detto, non pretendiamo, non le pretendiamo 10 milioni, ma se voi mi date la metà di quella cifra, la metà, 5 milioni, me la garantite per 5 anni, io vi garantisco e me ne assumo la responsabilità che possiamo, con i soldi che ci rimarrebbero, colmare, almeno per il 70-80% i problemi della costa che abbiamo in Liguria, quindi non ve li chiedo per sempre, ma me li ha lasciate per 5-10 anni, valutiamo, e io metto a posto un problema che c'è in Liguria, e voi Stato, poi non dovete intervenire quando le mareggiate mi massacrano le coste, e sono pronto a firmare che se dovete intervenire è per colpa mia, ti dicono di no, vedremo. Monesi, Monesi stanno andando molto bene i lavori, stiamo seguendo come regione i lavori, abbiamo iniziato anche un tavolo con la regione Piemonte del presidente, l'amico Alberto Cirio, per fare in modo che il comprensorio, visto che è un po' in Liguria, un po' in Piemonte, un po' anche in Francia, sia però abbia una voce unica, il Piemonte ha compreso la nostra volontà ferma di investire su Monesi, sono con noi, faremo un piano scistico unico Piemonte e Liguria, quindi faremo una legge sola, una delibera sola che verrà approvata ovviamente nei rispettivi consigli, ma che sarà uguale nella volontà e anche da un punto di vista tecnico. Abbiamo chiuso adesso un tavolo tecnico sulla pianificazione su Monesi, su quello che sarà la riqualificazione di alcune realtà su Monesi che possono essere utilizzate per il turismo, per il noleggio delle biciclette, piuttosto che altre aree di sosta per i turisti. Abbiamo previsto interventi sulla seggiovia che possa portare le biciclette, perché oramai ai nostri tempi una seggiovia che non permetta alla bicicletta di essere portata è una seggiovia vecchia, quindi mi dispiace che non l'abbiano pensato prima, ma interverremo anche lì. E altre idee che possano mettere Monesi al centro per il dopo, perché noi stiamo per concludere la strada, anzi, la sta per concludere il comune di Mendatica che sta facendo un ottimo lavoro. Noi abbiamo dato moltissime risorse, tantissime risorse per fare in modo che si potessero fare i lavori, la strada entro fine anno mi ha detto il sindaco che potremmo aprirla quantomeno inizialmente al passaggio pedonale, nei primi mesi dell'anno sarà anche percorribile con le automobili, abbiamo fatto un ulteriore finanziamento perché il primo progetto della strada prevedeva una strada provvisoria, non completamente asfaltata, c'è un termine tecnico che adesso mi sfugge, ma comunque una strada non asfaltata, adesso invece l'abbiamo prevista asfaltata a regime col guard rail e con tutto, quindi una strada vera che possa, quindi è ovvio che porta qualche settimana in più di lavoro, in più la ditta sta lavorando anche con la neve e con le temperature invernali, quindi ogni tanto si devono fermare perché altrimenti il materiale da loro utilizzato ovviamente rischia di guastarsi, di non essere poi utili, di dover intervenire dopo e la prima cosa che mi sono raccomandato prendetevi un mese in più ma il lavoro sia fatto bene e definitivo, perché siamo abituati in Italia a lavori fatti velocemente per tagliare un nastro e poi dopo sei mesi abbiamo già il cemento che si alza, quindi lavori fatti bene. E questo ce lo auguriamo naturalmente tutti, io ringrazio l'assessore regionale Marco Scaiola, un arrivederci, un arrivederci a presto e così anche al pubblico naturalmente, un grazie, un arrivederci a presto, buona serata. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.